Salve signori e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno un po' particolare perché credo che, tolti i brevi video che ho sempre dedicato a Lucca o alle altre fiere comics, quando ci andavo, questa è la prima volta che mi prendo addirittura un video intero per parlarvi di un fumetto e soprattutto per parlarvi di un prodotto italiano, perché di solito io qui tratto di cose prevalentemente nipponiche. Ma dovete sapere che invece la mia passione per il fumetto viene da molto prima di quella dei manga. E infatti sono stato un gran consumatore di manga, ma all'inizio della mia passione, soprattutto in questi ultimi due anni ormai, mi sono esteso sempre di più a quello che è il mercato occidentale, quindi quello italiano, francese, americano, quello argentino, eccetera. Quando, qualche mese fa, ormai diversi mesi fa, un mio amico, nonché compagno di studi alla Scuola Internazionale di Comics, arriva con un fumetto italiano dicendomi che era bellissimo e che io non conoscevo, mi sono emozionato, ma anche perché comunque lui di solito legge della roba bellissima e mi ha consigliato della roba bellissima. Mi ha fatto recuperare le storie di Daredevil scritte da Frank Miller, che sono qualcosa di splendido. E quindi mi passa questo volumazzo, perché è un omnibus, e mi dice, leggetelo. Io ci devolvo un pomeriggio intero. E... Beh, prima di tutto vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Metamorphosis, l'omnibus di Metamorphosis, di Giacomo Keison bevi l'acqua. Questo autore probabilmente tutti voi ve lo ricordate, principalmente per a panda piace. Ma ha fatto anche questo e un altro fumetto chiamato... Akira, forse? Non mi ricordo bene, non mi sono ben informato. Lo recupererò? Forse? Ma... Questo video vuole parlare di Metamorphosis. E come cominciare se non leggendovi la quarta di copertina? La protagonista di questo libro si chiama Luna Monshine, ed è una giovane iscrittrice romana. Un cognome romanissimo del resto, ma vabbè. Una ragazza come tante altre, come tante altre, come vedete, è sbarrato. Completamente diversa da tutte le altre, infatti, che vive un'esistenza sempre in bilico tra realtà e immaginazione. Ma che cosa accade quando gli incubi di Luna sembrano arrivare nel mondo reale? Cosa lega il suo misterioso passato al feroce serial killer che sta insanguinando le strade della capitale? Dal creatore della popolare striscia web a panda piace, Giacomo Keison bevi l'acqua, un thriller metropolitano a tinte fantasy. Presentato in un'edizione arricchita da un epilogo inedito e da una corposa sezione di extra, alla quale poi arriviamo. Poi c'è, dalla prefazione di Mauro Uzzero, questo breve inciso. Metamorphosis è un'opera in continuo mutamento, e quando penserete di averla inquadrata, vi sorprenderà spostandosi di lato un'altra volta ancora, cambiando di nuovo. È un modo sicuramente molto elegante e molto educato per dire, guardate che in questo fumetto va tutto in vacca. E andrebbe benissimo! Io adoro le cose che presentano la cacciara, io adoro i film di Tarantino, adoro i film della trilogia del cornetto, quindi a me piace quando una situazione va completamente a ramengo. Ma ci deve andare bene, con senso logico, con cognizione di causa. E questo qui dentro non c'è! E non capisco perché nessuno lo abbia detto! Ma, adesso che vi parlo della storia e di tutto, ci arriviamo. E quindi questa sarà, forse non esattamente una recensione, ma il mio pensiero sul Metamorphosis di Giacomo Bevilacqua. Ora, dal mio inizio e forse dalle mie espressioni, dato che io non riesco molto spesso e molto bene a nascondere le mie emozioni, avreste potuto pensare che ritengo questo fumetto una completa merda. No! Assolutamente no! Anzi, ve lo dico con tutta onestà e di tutto cuore, il primo e il secondo atto, perché questo fumetto è diviso in tre atti, il primo e il secondo atto, quindi quasi i tre quarti del fumetto mi avevano appassionato tantissimo. Per me era una madonna immagolata! Era fantastico! Perché? Perché esattamente come vi ho letto dalla quarta di copertina, quasi tutto il fumetto appunto racconta di una sorta di thriller psicologico. perché c'è c'è questo serial killer che ammazza la gente, che si capisce essere molto connessa alla protagonista e tra l'altro questo serial killer fa delle nefandezze ai corpi della povera gente che ammazza incredibili. gli sfregia e gli aggiunge o gli toglie pezzi di pezzi di corpi di altre persone o di animali o cose per farli quasi sembrare le le rappresentazioni di personaggi di miti greci. Questa roba mentre la leggevo mi ha fatto gridare al capolavoro perché ho detto interessante! Molto interessante! ammetto che sarebbe stato mio gusto a questo punto anche se non sono di base una persona violenta mi sarebbe piaciuto vedere un po' di gore in più visto appunto che cosa fa questo serial killer ma nonostante questo comunque la storia mi sta appassionando tantissimo mi volevo sapere come mai la protagonista e il il serial killer fossero così tanto connessi e insomma volevo sapere come andava a finire come si sarebbe svolto ovviamente ma come andava a finire leggo mi appassiono arrivo alla fine del secondo atto e dico dai chissà cosa succede adesso anche perché di solito quando una persona sente thriller psicologico o giallo e paranormale insieme dice non funziona il primo istinto è di pensare sembra una cagata perché perché il problema è che un giallo un giallo scritto bene di solito ti dà durante il suo svolgimento degli indizi in modo tale che tu stesso lettore possa indagare con il protagonista per scoprire che diavolo sta succedendo quindi è una sorta di gioco ed è per questo che il giallo intrattene così tanto il giallo o il noir o il thriller eccetera mentre invece il paranormale di solito porta soluzioni narrative del tipo ah succede questa cosa perché è paranormale quindi non farti domande ed è per questo che se di solito si dice a un lettore o a uno scrittore guarda che questo è un giallo col paranormale quasi sicuramente il suo interesse decade subito e invece in questo fumetto sempre secondo me questa indagine con il paranormale era una figata anche perché era tutto connesso al mondo dei sogni al mondo onirico cosa che a me attira tantissimo sarà perché sono un appassionato di Freud anche se non l'ho studiato al liceo perché non ho fatto il liceo sarà perché mi piace molto anche l'arte astratto l'arte surreale ma insomma volevo sapere volevo finirlo ed ero davvero eccitato e da qui il terzo atto ora questo video è principalmente dedicato a chi magari l'ha già letto il fumetto quindi alcuni pezzi li manco ma perché non me lo sono neanche riletto prima di fare questa recensione perché non volevo perdere perché avrei perso un altro pomeriggio e avrei di nuovo avuto la mare in bocca non ci tengo quindi chi se lo vuole recuperare se lo vada a recuperare poi ritorni a vedere questo ultimo pezzo di recensione ma tanto se non l'avete fatto ai tempi perché è uscito già da un po' di anni vuol dire che volete anche sentire magari un buon motivo del perché non dovreste come chi di voi ha letto il fumetto per chi no lo ragguaglio come appunto dovreste sapere o adesso saprete luna sogna le persone vicino a lei o meno che sono state ammazzate da questo serial killer che appunto era poi scopriamo il suo professore di sostegno è una storia abbastanza contorta non la sto qui a ripetere e li sogna appunto come se fossero personaggi di miti greci anche loro e quindi c'è questa connessione tra il serial killer che sfregia le sue vittime come se fossero persone dei miti greci e lei che li sogna effettivamente come persone dei miti greci e non li chiama neanche sai mamma fratello perché sono effettivamente sua madre e suo fratello e altre persone che lei conosce ma li chiama con i nomi dei miti quindi Aracne Narciso eccetera ora qual è il finale il finale che questo tipo riesce a liberare i poteri nascosti nella mente di Luna e a diventare una sorta di dio un villain supereroistico ma decisamente overpowered e da lì quando l'ho letto ho pensato ok non c'è modo di uscirne l'unico sarebbe che magari Luna in una scena molto commovente molto strappalacrime si ammazza si sacrifica e se lo trascina dietro con lui se no non si può risolvere e vi stupirà sapere invece oppure vi avrà stupito sapere che la risolve non ammazzandosi ma con un altro sistema ed è la tirata in vacca più brutta che io abbia mai visto in un qualsiasi prodotto multimediale audiovisivo lei nella sua mente trasforma mentre nei suoi sogni le persone che il serial killer ha ammazzato in dei supereroi e può farlo perché è nella sua testa e li riporta in vita seguitemi lei dalla sua testa da questo suo mondo immaginario che potrebbe essere una dimensione parallela come no mai spiegata questa cosa li riporta in vita li riporta in vita e in vita ci rimangono per sconfiggere questo cattivone e da qui partono i combattimenti alla Marvel slash DC come li potreste vedere in Infinity War o in Endgame appunto botte da orbi poteri e alla fine sconfiggono questo villain e quelle persone che lei ha riportato in vita io ho detto vabbè piangeremo perché già stavo piangendo dalle risate un po' dall'incazzatura ma poi c'è la scena commovente dove loro devono dire addio perché ok possono tornare in vita ma in vita non ci possono rimanere giusto? e invece no invece no questa gente rimane in vita come se non fosse successo un cazzo seriamente davvero me lo stai me lo stai dicendo con questi occhi Giacomino davvero come ti è venuto in mente di farmi per due per tre quarti di fumetto solo enigmista il primo solo enigmista cioè un film bellissimo con una splendida tensione dei bellissimi concetti di fondo alla fine switchare su Pacific Rim e poi mettergli questo finale da High School Musical ma High School Musical a parte non è che il primo Pacific Rim fa schifo o il primo solo enigmista non va bene e che cozzano queste due cose sono come le cozze la Nutella è come dire Xi Jinping Shinzo Abe Salvini e la democrazia non c'entrano un cazzo insieme esattamente come in questo fumetto qui l'hai mandata in vacca in cacciara male ma non è come nei film di Tarantino non è come nel recentissimo c'era una volta a Hollywood o in Bastardi senza Gloria o volendo anche in Django anche praticamente in tutti i suoi film o nei o in Hot Fuzz o La Fine del Mondo o Shaun of the Dead dove i plot twist finali che mandano tutto in cacciara ci stanno qui magari avrebbero ancora un minimo di senso logico per la logica che è instaurato in questo mondo ma rispetto a tutta l'atmosfera che è creato prima la distrugge e la manda a pezzi e questo rende purtroppo a malincuore Metamorphosis una delle più grandi delusioni a fumetti che io abbia mai letto in poche parole ora che mi sono forse un attimo calma che cosa volevo dire con questo video che mi rendo conto essere molto raffazzonato ma perché non è esattamente una review o una recensione precisa è più una cosa molto di sentimento molto emotiva perché è proprio delle mie emozioni che volevo parlare mi sono sentito proprio sballottato così da una parte all'altra però non bene come intendono nella quarta di copertina ma male 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 se i primi due atti fossero stati un thriller psicologico che si chiudeva in quei due atti e se il terzo atto fosse stato un fumetto completamente diverso separato di supereroi basati sui miti dell'antica Grecia non sarei qui a parlarne e non sarei qui a parlarne così e questo è il senso nel primo caso avrei potuto apprezzare un fumetto thriller che il thriller non è neanche un genere che molto mi si confa io preferisco il noir ma di gran lunga piuttosto che il thriller psicologico eppure lo avrei apprezzato ne sono convinto e allo stesso modo un fumetto basato sui supereroi basati su quei miti là mi avrebbe eccitato da morire anche perché avresti potuto a questo punto le parti parlo di persona signor bevi l'acqua Giacomo avessi tratto un intero universo magari da portare addirittura al cinema che cacchio ne so con quei supereroi là sarebbe stato stupendo stupendo non lo dico per prendere per il culo te o i tuoi fan sul serio sarebbe stato bellissimo e invece hai voluto mettere insieme dieci piccoli indiani e one punch man e non ha funzionato per me modestissimo parere mio personale da sceneggiatore trovo che lo smontare la bellissima atmosfera che avevi creato prima solo perché effettivamente secondo il filologico strutturato quella cacciara poteva anche starci a me ha davvero devastato sono convinto che però gli altri fumetti tuoi non siano così perché se no non credo che saresti così famoso perché ok a panda piace ma più o meno è come le canzoni tradotte con google translate da sio si fosse fermato là non ce lo ricorderemmo oggi e quindi sono convinto che anche i tuoi altri fumetti valgano qualcosa prima o poi li recupererò ma metamorfosi secondo me rimarrà sempre una grande delusione e una cosa voglio ancora dire per concludere ho l'omnibus e mi hanno prestato l'omnibus come ho già detto e quindi qui dentro ci sono extra ci sono compendi ma a parte che mettere degli extra o dei compendi per andare a riparare delle pecche non è secondo me una gran cosa non è una gran mossa perché un fumetto va goduto nella sua interezza Watchmen se uno si legge gli estratti dal libro del primo gufo notturno o meno se lo gode lo stesso ma comunque non c'è compendio o extra che possa andare a riparare le mancanze che ha questo fumetto ho solo parlato tra l'altro di quelle emotive non ho voluto parlare di quelle magari secondo me di sceneggiatura o di tramo di cose ma perché quello di cui ho parlato per tutto il video è il motivo principale che mi porta a dire ragazzi metamorfosis secondo me no non ho voluto non ho voluto